Ciao, oggi faremo un video bellissimo Sì, penso che sia il terzo video di Natale Guardate che bello che abbiamo preparato Vedete, ci sono due pupazzetti Uno è... Il bufetto E l'altro è... Un unicorno Che belli Allora, faremo due squadre E la Emma vuole fare le squadre Ok Vedete la bottiglia E l'altra bottiglia Non c'è la bottiglia Allora, Emma E l'altra bottiglia Allora, faremo una bottle flip Quindi chi riesce A far stare la bottiglia Giusta Con il pupazzino Va avanti Va bene? La squadra che... Cosa c'è, Emma? Vabbè, dai Cosa ho detto? Ma è un paianato Ah? Che stai riparlando A quel tempo Che la fa E la guarda E la prende Fa così E poi c'è il devono Che guarda dall'altra parte Ah, ok Quindi il primo pupazzetto Che raggiunge L'Ailtrack Vince Ok Perfetto Quindi Emma Fa le squadre Contro chi Chi vuoi D'avversaria L'Ailtrack Ehm La Erika Ok Emma Emma E Erika Fanno le squadre Dai Fatele due minuti E poi tornate da noi Questa E la squadra Di Erika Dov'è Debbie? E la E questa E la squadra Ma chi c'era sotto? E questa E la squadra Di Emma Va bene? Pronte? Parte? Sì Lo fate vedere I pupazzetti Ah no Decidete Ha 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 Ho portato via Allora Decidete Il pupazzetto Mettetelo lì Noi Noi I due I due Capitane Ragazze Dai I due Capitane Erika Quale vuoi? Decido io Ok Ok Quindi L'unicorno È della squadra Di Emma E il gufetto È della squadra Di Erika Parte La squadra Di Emma Di Emma Vai Emma Pronte No scendi No no Devi farlo sull'airtrack Sì Mettetevi in fila dietro l'airtrack Per favore Mettetevi in fila dietro l'airtrack Sta provando Sta provando Può fare come Potete mettervi anche su come lei Come volete Devo partire Sta provando lei Sta fermo o no? No è fermo Sono io Ok Lei è ferma Niente Aspettate Aspettate Ferme Perché io così non posso continuare a girare Uno Due Uno Due Quindi ci mettiamo tutte di là Fate due righe E prima va uno Poi per l'altro Il pupazzate lo tiriamo avanti Il primo che arriva là vince Dai No no Stai ferma Stai ferma Perfetto Quindi Mettetevi due righe Una di squadra Di fianco all'altra Senza farvi gli scherzi Possibilmente Ma guarda Ma non mi cambia Ma neanche se ti metti Uno di fianco all'altro Perché hai spostato i pupazzetti? Perché magari Lascia il pupazzetto in mezzo Ragazzi E quello lì No l'altro Ok Pronte Pronte Vieni Martina Sicilia La squadra Che arriva prima Live track Vince Letizia Ti ricordi Quello che ha detto Prima Leliana Vai Ma io posso farlo Quasi Penso che questo gioco durerà un eterno Facciamo che una continua Fin quando non riesce Letizia Dai Eh Dai Tre tentativi a testa Uno Due Tre No Uno Due Tre Uno Due Tre Uno Due Tre Vai E il pupazzetto E il pupazzetto Sì Noi siamo l'unicorno Gli devi dire verso di te Ok Vai vai Intanto andiamo 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 Sì Via 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 E i gufe Tutte e due di qua No 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 Sì Via Uno Due No Vai Irene vai Cambio Sì Quando gioiscono è bestiale Aspetta Marti Finisce la Emma Grazie E' un'ina che ti sa E' un'ina che ti sa E' un'ina che ti sa Cambio Vai Hai fatto tre volte Uno Sì, hai fatto tre volte Vai zitta un po' Ti tocca? No Eh ma ti sei messa davanti E il gufo avanza Ma ne fatti tre Vanessa Nicola uno Due Vai Unicorno avanti di uno Camilla avanti di uno Emma Unicorno avanti di uno No 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 manca un punto e no manca uno di salire scusa Irene vinto vince la squadra dell'unicorno speriamo che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e lasciate tanti like ciao